Abbiamo una responsabilità nei confronti dei Veneti che ci dicono di riprendere il nostro percorso amministrativo. Lo facciamo con serenità, lo facciamo senza le polemiche. Voi mi conoscete, non aspettatevi da me polemiche in campagna elettorale. Se gli altri parlano bene o male di noi ci fanno solo un piacere, lo facciano. I cittadini veneti non sono degli idioti che stanno lì a credere a tutto quello che si dice perché quando tu dici che la sanità del Veneto fa schifo vuol dire che l'unica roba che devi fare per coerenza è andare a curarti fuori dal Veneto. E per quanto riguarda i risultati parlano da soli, parlano le statistiche nazionali, parlano i dati, parla il governo che sceglie noi come regione benchmark per la sanità, parlano i nostri bilanci che non abbiamo bilanci in diserto finanziario, parlano tutte le azioni che noi abbiamo fatto, i 925 cantieri dell'alluvione, i 360 milioni di euro investiti dopo l'alluvione. L'alluvione che ancora oggi viene ricordata a livello nazionale per essere l'alluvione meglio gestita nella storia italiana perché in nove mesi siamo riusciti a fare i decreti e liquidare 10.040 posizioni.